La Regione Toscana e anche il Comune di Subbiano sono interessati alla memoria pubblica dei fatti e delle vicende tragiche del Novecento, nella certezza che questo è un investimento per la democrazia di un paese e per la sua crescita culturale. Nel giorno del ricordo, istituito con la legge del 30 marzo del 2004 dal Parlamento italiano per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale, si parlerà in una diretta con la Regione Toscana della storia del confine dell'Alto Adriatico, che è una storia complessa. Nelle città estriane e oggi croate, nel Novecento si è rovesciato il rapporto fra le etnie, gli italiani sono minoranze. A vent'anni dall'inizio del millennio, nel bene e nel male, la globalizzazione è un processo irreversibile e le reti hanno sostituito le linee, ma in Europa si discute di nuovi muri, mentre il Mediterraneo è conteso fra divieti. Allora le frontiere sono più che delle semplici barriere, per alcuni sono garanzie di comunità e di appartenenza. La storia del confine dell'Alto Adriatico rappresenta quindi un caso di studio affrontato nella prospettiva del presente, che può essere di grande utilità per l'educazione civica delle nuove generazioni. Il confine è di per sé un oggetto complesso, non è una semplice linea. L'introduzione a questa giornata è affidata all'assessore alla cultura del comune di Subbiano, Paolo Domini. Il confine è una linea immaginaria, vogliamo verla come una linea immaginaria, è una linea di percorsi, di storie. È una linea di vita vissuta e di difficoltà nell'intraprendere dei nuovi passaggi. Il confine in effetti è in sé per sé un luogo di passaggio, però è anche un luogo dove le comunità possono coesistere. L'esperienza di Trieste, da questo punto di vista, è un'esperienza evocativa. Trieste è stata storicamente la culla della Mette d'Europa, un luogo di incrocio di culture diverse, un luogo in cui queste culture hanno sopravvissuto e hanno vissuto in pace per un lungo periodo. È un luogo in cui, sia pur nella difficoltà dell'incrocio di tante comunità, molti intellettuali hanno comunque contribuito a dar lustro a questa città, a tutta l'area. Però è ovviamente, la storia ci ha lasciato delle conseguenze purtroppo molto più brutte, legate alla difficile coesistenza che a un certo punto è venuta fuori per gli abitanti di quelle aree, per i fatti storici che sono succeduti soprattutto nel primo novecento, nella prima metà del novecento. Il progetto che viene analizzato oggi, su cui appunto la regione toscana ci porta e ci illustra, è un progetto di ricerca di cosa quella linea di confine ha rappresentato. E viene elaborato in un progetto appunto biennale che viene destinato alle scuole affinché le scuole possano fare un'esperienza propria, curricolare, di quello che è stato, ha rappresentato, vivere in un luogo di confine, con tutte le conseguenze storiche, sociali, politiche che ne sono scaturite. L'esperienza del luogo di confine del resto è portata avanti anche dall'università e nella conferenza appunto verrà fuori anche questo aspetto, dove l'università cerca di attualizzare le tematiche e le problematiche dei confini all'oggi. A cosa vuol dire vivere in un luogo di confine oggi, che non è più solo un confine spaziale, ma è un confine anche di culture, un confine di passaggi, un confine come luogo anche di raggiungimento di una libertà, a tutti gli effetti, per chi vi arriva. L'esperienza che ci viene portata, del resto è un'esperienza che tocca profondamente la coscienza di tutti noi. Arrivare in un luogo di confine oggi è in un certo senso rivivere l'esperienza di chi da quel confine, in qualche modo, nel passato è dovuto comunque uscire. È dovuto uscire e arrivare in luoghi diversi. Si parla di oltre 250.000 persone che hanno lasciato le proprie abitazioni, tutti i propri averi, tutte le proprie certezze, per andare effettivamente incontro a una vita futura, ma una vita che per loro era completamente ignota. E ne abbiamo testimonianza anche nelle nostre realtà. Vivere queste esperienze, viverle oggi, con gli occhi di ieri, di chi ricostruendo effettivamente tutto quello che è stato vivere in quei luoghi, oggi rappresenta qualcosa che forse ci sembra lontano, però uno studio approfondito in materia è l'elemento forse fondante per cercare di renderne il più possibile testimonianza. Quello che siamo noi oggi, quello che viviamo, in un certo senso lo hanno vissuto tantissimi anni fa persone che si trovano, si sono trovate a vivere in una situazione veramente spiacevole. E' naturale che arrivare in un luogo di frontiera è sempre arrivare in un luogo che è destinato a creare delle tensioni. Vorrei evocare una testimonianza che ci porta uno dei più grossi poeti, mi piace chiamarlo così, che in musica ha descritto la tematica del confine, che è Ivano Fossati. Nella sua canzone Pane e Coraggio ci porta una testimonianza che chiaramente non è una testimonianza di quei tempi ma è una testimonianza di oggi e ci dice due parole importanti, ma soprattutto ci vuole coraggio a trascinare le nostre suole da una terra che ci odia a una terra che non ci vuole. Quindi dove vengono evocate, chiaramente attualizzate oggi, le stesse cose che potrebbero aver interessato gli esuli che hanno avuto molte difficoltà nel poter vivere, nel potersi farsi accettare, nel poter uscire da quel luogo che era diventato a un certo punto, pur essendo casa propria, una casa non più ospitale, per poter raggiungere effettivamente la propria libertà altrove. L'esperienza di questi uomini e della vita che hanno vissuto abbiamo il dovere di portarla avanti, di tramandarla. Quindi grazie alla Regione Toscana che ha voluto renderci così testimonianza e essere stata profondamente colpita in questa grossa sensibilità verso questo tema. Grazie a tutti.